L'Olanda, una delle nazioni più ricche d'Europa, è un paese in costante pericolo. Allagamenti devastanti reclamano centinaia di vittime e migliaia di chilometri quadrati di terra. Ma gli olandesi rispondono edificando una serie di strutture uniche e complesse progettate per bloccare il mare. È il più grande e sofisticato sistema di difesa dalle inondazioni mai costruito.